Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il celebre programma televisivo Forum festeggia 40 anni di trasmissione con un ritorno in onda speciale. Tra gli auguri ricevuti spicca quello di Antonella Clerici, nota presentatrice di Rai 1, in competizione con Barbara Palombelli, conduttrice di Forum dal 2013. Il 29 settembre 1985 segna l'esordio di Forum, programma che ha sempre catturato l'attenzione del pubblico con casi legati al diritto civile. Quest'anno si celebra la quarantesima edizione, sempre guidata da Barbara Palombelli, che ha preso le redini otto anni fa. Antonella Clerici, famosa anche per la prova del cuoco, ha inviato un caloroso messaggio di auguri insieme ad altri volti noti dello spettacolo, come Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Cesare Buonamici e le ex conduttrici Rita Dalla Chiesa e Paola Perego. Nel suo messaggio Clerici si mostra incredula per i 40 anni trascorsi dalla prima puntata di Forum e complimenta Barbara per il successo del programma, nonostante la rivalità. Tuttavia esprime la sua felicità per questa situazione, paragonandola all'avere un'amica dall'altro lato dello schermo con cui confrontarsi. Non è la prima volta che le due presentatrici si scambiano auguri in diretta. Infatti, lo scorso dicembre, Palombelli aveva augurato buon compleanno a Clerici durante un... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!